Il Lazzaretto Nuovo L'ecosistema delle Barene unico al mondo Fin dall'antichità ha avuto funzione strategica a controllo delle vie acque verso l'entroterra Monastero Benedettino nel Medioevo con il nome di Vigna Murada con la Serenissima dal 1468 divenne Lazzaretto luogo di quarantena per le navi sospette di contagio provenienti dai porti del Mediterraneo In epoca napoleonica e austriaca fu quindi utilizzata per scopi militari Dismessa dal Ministero della Difesa nel 1975 e vincolata dal Ministero per i beni e le attività culturali accoglie oggi migliaia di visitatori all'anno grazie al progetto per la rinascita di un'isola che comprende visite guidate e attività scientifiche e culturali Grazie a tutti